Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Tappeti Tappeto Patchwork 203X81. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa, 7 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.